Ciao, oggi andremo al Lama Andrea a mangiare, fare un piccolo picnic e farci un giro in bici. Verrai ammanettata, Zoe, con quelle. Che bella. Mamma, sei tu. Ciao. Sono Zoe. Guarda, mi sono io. C'è ancora questo schifo sulla guancia? Ok. Una pallina ammanettata. Aspetta. Guarda, qua c'è il tuo. Ma qua c'è il tuo? Sì. Lo puoi mettere? Adesso non serve. Lo devo mettere, te lo metto dopo, amore. Ciao mamma. 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 Ti piace? Ciao mamma. Ciao mamma. Ciao mamma. Io sarei già stanca da posare la bici e lasciar perdere qualche cosa. Cioè, poi la cosa più difficile è che mi ho studiato la strada prima perché voglia di tenere telefono quasi tutto il tempo, sballosto tutto, ma in città ci sono anche film. io non mi ricordavo com'era questo parco, ma è tutto ascoltato in teoria no, ci dovrebbero essere anche tra l'esperrata perché volevo portare i roller pallina, diamo un po' su questo, così non ti ostioni ma c'è il cappello io non ce li ho i roller vieni dai fai niente anche se riesca a dire, mamma lo lava questo bici di ultima generazione versus bici proprio così da 3 euro degli anni 80 no, non gli piace che sto davanti a lei ma non vedi tutto capisco ma mi siedo io lì mi siedo io lì Zoe, tu pedali si è vagata ma sì ma no, ma io il mio seggiolino che ho che dovrei attaccare sulla mia bici si mette al manubrio però questo manubrio qua c'è anche quello mio c'è pochissimo spazio qui quindi non so se riesco a metterlo da qua si avventurano verso grandi avventure lì c'è un edificio che Erika avrebbe apprezzato c'è un tizio con la soundtrack Zoe, non posso scendere perché devo tenere in piedi la bici se no cade se non ci sto io sopra cosa? che devi ascoltare la musica così ma ascoltatela te non per i coglioni infatti c'è un tizio con la soundtrack lui ha la sua host ma in giro c'è la host che tizio quello lui c'ha la host quando va in giro c'è passa la colonna sonora personale no infatti non ha però c'è musica sì, questa va bene questa può andare bene però sì anche a me dà fastidio ok ma ti metti le cuffie e basta così non rompi le scatole a nessuno perché quello che a noi può andare bene magari a qualcun'altro mi chiede che sta andando non lo so prendiamo questo gelato io lo prenderei è un lupo sono dentro la mia borsa aspetta che caschi capra non mi ispira ma è solo il latte non mi ispira non è perché tu sei un caprone e quindi il latte di capra ci sta però non lo posso non posso assaggiarlo piccolino non è che ti dice niente io non lo prendo quindi la sua giacca dice buono e se lo va a prendere esatto dai lo sto mandando io lo sto mandando tu mandala lo vuoi gelato o no vieni da mamma dai zetta non si soffia quello non è una bocca di leone si chiama una bocca di leone dente di leone è uguale bocca di leone anche conosciuto come soffione si esatto si esatto io lo conosciamo mangio io va bene buona allora corri dai dai giò che ce n'abbiamo ancora una coppetta intera lo so io che vuoi mangiarlo te ma non puoi lo so vorrei ma non posso per forza di prendere me che sono anche bruttina esatto ecco forse quella bici va meglio di quella di Arturo nooo possibile almeno non salta la catena quando fa le salite poi salta la catena perché cambia la marca uno non li prendi pistola? no solo mentre che se ne va qui dopo adesso tu in realtà è una rimembranza di Luigi che si arrampica nei posti in Giappone per trovare le robe più strane le stampelle le stampelle i cavi ma scusami se continuiamo a salire siamo su una montagna però poi dovremmo poi scenderemo poi scenderemo vai vediamo come viene se riprendo così in teoria no perché stabilizzata in teoria no perché stabilizzata sì ho capito sarà anche stabilizzata ma se avete su un quadro che fa così eh vedremo cioè ammortizza le vibrazioni non le da provare da provare a questo punto di tenere in bocca ma avevo un aggancio solo che solo che devo tenerla tipo puntata così sì in teoria sì solo che più di così non sale quindi è un problema tanto domani mica se devo fare un miliardo di cose quindi è importante che le gambe ma infatti va bene io le lascerei a casa poi e che oh no ora morirò perché c'è la salita facile con il monopattino da sterrato in realtà infatti io sto abbastanza bene come temperatura beh ti passavo questa clip 4k a 60 fps dei culi di tutti quanti vediamo se è fatta così non penso di stabilizzarla anche volendo non so secondo me viene più stabile del previsto ma più che altro sono le vibrazioni queste veloci che non so quanto ma più che altro sono le alto e basso perché lei può compensare se io la muovo avanti e indietro non so se lui si muove in varie direzioni ma l'altezza non può compensarla non è evitato a far entrare i cani qui ok non è evitato dei colpi e non li ha evitato qui all'ingresso c'è scritto divieto di cane ah così posso stoppare poi con quella bici dai eri facci vedere non ci vuole tanto comunque con la regia attenzione fine ha dimostrato di sapere andare in bici allora ci sai andare adesso lo mando a tua madre ma male male non è che bisogna sempre ci andare bene o male sai vai fine ovvio non fai l'acrobazie ma ma poi questa bici manco volendo che cosa mi chiesto di non fare una salita la prima cosa che mi ha fatto fare è quella ma quella arrivava fino all'interno si lo so come è bella pesante è bella pesante ho fatto un test di stabilizzazione incredibile si ho fatto questa cosa però per un bel tratto con tutte le pietroline molto bene quindi vedremo come è venuta poi la ripresa no no ti aspetto tanto ma per cui ti vuoi vivere sì non so comicità non occulta pure i station alla fine Marco che ci dove me lo sono perso Marco è sparito è sparito Marco siamo sulla via del ritorno non so se alla fine andremo a mangiare da qualche parte insieme oppure ognuno se ne torna a casa propria non ho compreso quindi penso che torneremo a casa quindi questo piccolo vloghino poco utile penso si concluderà con questa clip quindi io vi ringrazio di aver guardato mettete like non condividete perché non è il caso e noi ci vediamo al prossimo video ciao chau ciao Il vento è sempre stato di prendermi la moto era per quello.